Della verità da ieri riaprono finalmente i centri diurni, gli XER, i centri socioeducativi e riabilitativi per i disabili, che nel nostro ambito sociale sono sei, riaprono in cinque, uno ha già riaperto ieri. Dal 19 maggio ad oggi le abbiamo impiegate per una serie di incontri che erano necessari. Abbiamo condiviso questa linea proprio sabato scorso con gli altri comuni dell'ambito sociale numero sei, con i quali abbiamo anche concordato di ridurre la quota a carico delle famiglie in questo periodo, proprio perché i servizi comunque sono resi in forma graduale, modulata, quindi la quota a carico delle famiglie, il 50% della quota a carico delle famiglie se ne faranno carico gli stessi comuni. Noi abbiamo cercato di fare il possibile, non abbiamo perso tempo sicuramente, però io non ci tengo ai primati. Abbiamo stamattina anche chiesto che non si ripeta poi quello che è successo sabato quando hanno fatto i tamponi, perché è giusto anche che quando ci saranno i controlli di arrivare, visto che si tratta di persone comunque che hanno qualche difficoltà anche perché lo stesso tampone è invasivo, per cercare di trovare fra un mese, quando ci saranno ulteriori controlli, di alleggerire, quindi lo screening sia fatto con i test. Ma in questi giorni stiamo definendo, visto che la regione finora non l'ha fatto, stiamo definendo noi come ambito sociale numero sei le linee guida insieme agli altri comuni. Se tutto va bene, gli uffici stanno lavorando proprio in questi giorni, entro la settimana o al massimo all'inizio della settimana dovremo anche approvarle.